allora cosa di oggi praticamente oggi era festa era labor day quindi non si è andati a scuola e anche al lavoro poi risposte lettori ne ho 120 basta basta risposte lettori allora se c'è una risposta lettori seria la faccio se non la faccio basta se ci sono delle domande mi dovete stupirvelo l'ho già detto bye ha finito bisogna vedere backup test completed se vedete che sto facendo sto usando un software che si chiama carbon copy coloner che praticamente clona il vostro hard disk copia tutto quello che c'è sull'hard disk su un hard disk esterno ed è questo qua e lo fa il hard disk esterno lo fa anche buttabile ciò vuol dire che posso lanciare leo part dall'hard disk esterno voi direte che serve per installare snow leopard sull'hard disk esterno e testare tutte le funzionalità perché io lo so e cioè adesso magari anche di là di là c'ho snow leopard lanci photoshop va lanciato salvi due foto va benissimo poi fra una settimana inizi a spattaccare errore 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 io mi ricordo quando ho installato mi pare leopard e photoshop andava sempre cresciava poi in design non salvavo più i pdf quindi prima di installarlo sul sistema del mac macbook voglio fare delle prove voglio proprio vedere perché uff mi attira un casino lo voglio lo voglio installare lo voglio installare giusto quelle due tre cosine expose giusto per expose basta lo voglio installare non posso installare lo voglio installare lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio allora affinito adesso vi fare il backup questo software gratis potete scaricarlo tutto poi c'è anche super duper chiamato però non era gratis era shareware e io siccome sono un amante dell'open source perché l'open source è gratis no l'open source non è detto che sia gratis però nella nella mentalità di molti è open source uguale gratis allora è bello se l'open source fosse a pagamento farebbe schifo tutti questa ecco questa è la mia citazione verrà segnata sui libri di software mirko jenks nel 2009 ha detto se l'open source è a pagamento farebbe schifo tutto infatti lì cosa ho fatto expression engine lo so che in italia non è usato per niente no però volevo farvi vedere che secondo me ci sono delle cose facili ad esempio fare i template multiple template è una stronzata io mi ricordo con droop è un casino non ci ho mai capito niente con wordpress si posso modificare un template il suo normale quello però non ho capito come fare altre pari ad esempio sono alla seconda pagina about vuoi fare un tutto differente non lo so devo andare a vedere su una guida ma non so come si fa è quello lì è open source è fatto in php però non è gratis e infatti ho detto è brutto 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 questo programma è 290 ma che è una 2.50 costa però è open source perché infatti ci sono molti anche cito sempre il mio amico lì che di jacksonville ha fatto un paio di plug in strabelli gratis però il software in sé non è gratis comunque per noi americani questo è irrilevante perché c'è poi su un sito di minimo lì al lavoro facciamo con cms minimo 7 8 mila dollari adesso l'ultimo cioè non è questo che ho fatto vedere la stima di un altro che sto facendo 12 mila quindi spende 250 dollari per un software cosa vuoi che sia su 12 mila dollari quindi da noi non c'è problema comunque wordpress è bello cioè il 2.0 poi tutto funziona però come ho detto a parte il fatto che quando io gli voglio dare ad esempio ho fatto un blogghettino così quando il cliente vuole spendere poco allora pack opzione wordpress però quando gli lo dà il cliente è sempre un po' incasinato secondo me non è che non gli dici allora io a clienti gli voglio far vedere solo questo menu dove può scrivere il suo post e basta invece no vabbè gli dà la permission editor e allora però vengono fuori un sacco di cose non si può fare una un permesso speciale che dico io no ok adesso vedrete io ci sono i plug-in c'è questo plug-in c'è questo plug-in c'è questo plug-in c'è questo plug-in c'è sempre il plug-in per far tutto ok però di default allora come ho spiegato faccio in questo altro software poi allora ho fatto altri esperimenti con la mia bellissima videocamera che bella ma quelli in alta velocità però questi quelli che ho messo già erano i migliori secondo me oggi ho provato a lanciare un pallone dare un calcio a un pallone ma va troppo veloce non si capisce in cavolo poi ho fatto un secchio d'acqua e li lanciavo dentro il pallone sì però il latte viene meglio poi ho fatto ah ho usato quelle sprinklers come si chiamano quelle stelle filanti che vanno col fuoco che si usano a carnevale no? però anche lì troppo veloce poi ho fatto ciuschi che sbadiglia ma pacca ciuschi devo ancora beccare il momento l'ho beccato ma stava quasi a metà ciuschi che sbadiglia secondo me è il video migliore però si vede proprio fa fare così l'ho fatto io al rallentatore no? però l'ho preso qua anche si vede male non lo so devo fare una completion poi altre cose che ho pensato ho fatto una specie di quelli come si chiamano incensi il fumo che viene ma si vede male fa schifo l'ultima che voglio fa esperimento della settimana mi è venuto ero in bagno stavo attaccando un orologio bellissimo allora voglio fare una spada una spada di samurai no? no perché l'idea che era era quella di provare a tagliare una mela in alta velocità e vedere proprio la mela che era via no? ho detto prendo il mio coltello da rambo lo affilo super però ho detto ma ci vorrebbe una spada samurai allora quale non motivo per costruirla? voi vabbè voi non lo sapete ma io ho visto lo speciale come costruire una spada samurai su discovery channel su tutti i passaggi però non li farò io farò il metodo meatbuster perché l'ho visto a meatbuster no? per dire lui non lo facevano vedere come si faceva una spada però mi hanno fatto vedere un truccone perché il segreto della spada samurai è d'acciaio però è anche trattata col carbone perché l'acciaio dà la forza però l'acciaio è forte però è molle invece il carbonio è fragile ed è tagliente quindi bisogna combinare questi due elementi il carbonio con l'acciaio allora lì i samurai che non capisco niente sono arrivati in anticipo noi abbiamo le tecnologie noi abbiamo la tecnologia allora per far ciò è facilissimo allora vado qui al ferramenta che sta vicino a casa mia si chiama il paradiso della brugola ci vado sempre lì no? piglio una lastra di acciaio temperato no acciaio normale ferro insomma dammi qualcosa basta che sia di ferro poi la limo con la mia lima che c'ho c'ho la bobbio qualcosa come si chiama no? c'ho la lima elettrica insomma no? poi il trucco per spiaccicarci sopra il carbonio è il seguente visto a meatbust no? allora si accende il barbecue si fa diventare la spada con questo pezzo di ferro caldissimo e poi si mette velocemente dentro una vasca piena di voi direte acqua no di olio del motore perché l'olio del motore è ricco di carbonio facendo questo procedimento due o tre volte pam viene una spada bellissima come quella di Gaemon e poi ovviamente farò il manico col cerotto come quella di Gaemon e basta e potrò fare il taglio della mela e basta bye questo esperimento ma c'ho vari esperimenti allora ho fatto uno che adesso non ho ancora film mi sono stufato comunque ho preso una bacinella sono sempre quella della pila la pila di Mirko Jackson ho preso una bacinella e poi ho fatto sopra un sopra di legno con un sacco di buchi e in un buco ci ho messo un tubicino di alluminio e nell'altro buco ci ho messo il tubicino di rame comprato apposto ho trovato un tubicino di rame perfetto sottile come quello dell'alluminio allora ho messo questi due qui poi li ho messi due 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 alla fine ne vengono tipo dodici poi tutti collegati però ne ho collegati solo quattro perché ne ho fatti solo quattro di queste cose poi nella bacinella sotto adesso lì mi sono incasinato perché dovevo trovare il modo di che questi due i due tubicini vanno a contatto con un buco dove c'è acqua salata dentro e basta non è che si non è che si può mettere tutti i tubicini dentro una vaschetta di acqua perché dopo non va bene bisogna che ogni tubicino abbia la sua acqua privata allora ho pensato come cavolo posso fare questo qui vabbè un'idea era di usare delle vaschettine proprio piccole così niente allora ho fatto ho versato del cemento dentro la bacinella no? e l'ho fatto indurire dopo ci ho fatto tutti i buchi però ne ho fatti solo quattro poi ora dopo ho messo l'acqua c'è uno viene da 5 volts e vai quindi la batteria funziona però alla fine forse riuscivo ad arrivare a 10 volts se li collego tutti poi però non so se dopo l'acqua dissolve il cemento dopo ci devo mettere un rinforzino di silicone non lo so che sono veri passaggi si sta dall'inizio dalla lattina adesso sono già passato avanti adesso prossimamente la pila sarà pronta per il commercio perché l'idea è proprio bella perché vi ho già spiegata queste pelle la pile di solito quelle che fate lì in casa non hanno mai potenza questa è 0,5 una lattina un coso di alluminio di rame 0,5 volts e non sono pochi ovviamente l'intensità non l'ho calcolata l'intensità non c'entra niente l'intensità l'intensità 3 ampere tutto l'intensità non l'ho calcolata lo stesso calcolati alti e allora questa tecnologia non è da sottovalutare pensa se in commercio ci fosse una pila fatta bene ovviamente ultramoderna però su questo concetto allora te basta che vai al mare riempi la botticina ole energia gratis e infatti non l'ha fatta nessuno però la farò io poi risposto l'elettore poi allora appena in mente tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti